Ciao ragazzi! Oggi vediamo una nuova disequazione goniometrica che si può ricondurre ad una disequazione goniometrica elementare. Sto parlando della disequazione 2 seno al quadrato di x mezzi minore di 1 meno seno di x. Proviamo a portare dapprima tutti gli elementi al primo membro, per cui otteniamo 2 seno alla seconda di x mezzi meno 1 più seno di x minore di 0. Poi notiamo che l'angolo non è lo stesso, infatti una volta compare x mezzi e un'altra volta x. Per poter risolvere questo esercizio è necessario ricondursi ad uno stesso angolo. Allora possiamo ricordarci di una semplice formula di duplicazione che ci dice che dato un angolo alfa, seno di 2 alfa si può scrivere come due volte prodotto tra seno di alfa e coseno di alfa. Questa formula di duplicazione la possiamo applicare su seno di x. Infatti x lo possiamo intendere come due volte l'angolo x mezzi e quindi seno di 2 per x mezzi è uguale a due volte il prodotto tra seno di x mezzi e coseno di x mezzi. Ed ancora potremo sfruttare la formula fondamentale per poter trasformare 1 in coseno alla seconda di alfa più seno alla seconda di alfa, ma in questo caso l'angolo interessato è x mezzi, quindi possiamo scrivere coseno alla seconda di x mezzi più seno alla seconda di x mezzi uguale ad 1. Attenzione perché poi all'interno dell'esercizio compare l'opposto di 1, quindi metteremo un meno davanti alla parentesi al cui interno andiamo a scrivere coseno alla seconda di x mezzi più seno alla seconda di x mezzi, chiudiamo la parentesi e al posto di seno di x scriviamo 2 seno di x mezzi per coseno di x mezzi. Proviamo a scrivere meglio questa disequazione. Abbiamo 2 seno alla seconda di x mezzi meno coseno alla seconda di x mezzi meno seno alla seconda di x mezzi più 2 volte seno di x mezzi per coseno di x mezzi minore di 0. Ci accorgiamo che ci sono dei fattori simili, ad esempio abbiamo 2 seno alla seconda di x mezzi e meno seno alla seconda di x mezzi che si possono sommare fra loro, quindi otteniamo seno alla seconda di x mezzi meno coseno alla seconda di x mezzi più 2 volte seno di x mezzi coseno di x mezzi minore di 0. Adesso come potete notare all'interno di questa disequazione sono presenti due funzioni goniometriche seno di x mezzi e coseno di x mezzi. Siamo allora alla ricerca di un artificio che ci consenta di semplificare questa disequazione. Possiamo ad esempio mettere in evidenza coseno alla seconda di x mezzi anche se in teoria non vediamo che è presente coseno alla seconda di x mezzi per tutti i fattori di questa disequazione. E allora in questo caso quando noi mettiamo in evidenza una quantità che non vediamo dividiamo quei fattori che non la contengono per la quantità stessa. Quindi nel primo caso se mettiamo in evidenza coseno alla seconda di x mezzi per seno alla seconda di x mezzi ricordiamoci di dividere seno alla seconda di x mezzi per coseno alla seconda di x mezzi e così facciamo per tutti gli altri termini. Anche se il nostro istinto ci dice di andare subito a semplificare le quantità uguali che si presentano al numeratore al denominatore in realtà dobbiamo prima richiedere che il denominatore sia diverso da 0 perché sappiamo che altrimenti la semplificazione non sarebbe possibile. Allora dobbiamo richiedere che il coseno alla seconda di x mezzi sia diverso da 0. Una quantità elevata alla seconda può essere o uguale a 0 o maggiore di 0. Visto che noi richiediamo che sia diverso da 0 dire che coseno alla seconda di x mezzi è diverso da 0 equivale a richiedere che il coseno di x mezzi sia diverso da 0. Ma allora ponendo per sostituzione x mezzi uguale a t per semplificarci i calcoli richiediamo che il coseno di t sia diverso da 0 e lo è esattamente in corrispondenza di pi greco mezzi più k pi greco. Quindi chiediamo che t uguale ad x mezzi sia diverso da pi greco mezzi più k pi greco. Ma poiché vogliamo isolare la x moltiplichiamo i membri di questa diseguaglianza per 2 e otteniamo 2 per x mezzi diverso da pi greco mezzi più k pi greco per 2. Giungiamo pertanto ad x che è diverso da pi greco più 2k pi greco e questa condizione di esistenza ce la teniamo da parte. Magari ci potrebbe servire. Tornando alla disequazione adesso è possibile fare le semplificazioni e quindi riscriviamo coseno alla seconda di x mezzi per tangente alla seconda di x mezzi perché attenzione abbiamo seno alla seconda di x mezzi fratto coseno alla seconda di x mezzi quindi possiamo ricondurci tranquillamente alla nostra tangente. Poi più 2 volte tangente di x mezzi perché dalla semplificazione avanza il rapporto seno di x mezzi fratto coseno di x mezzi e infine meno 1 il tutto minore di 0. Adesso noi dobbiamo studiare il segno di questo prodotto che deve essere negativo però possiamo andare più veloci perché sappiamo che il primo fattore che coseno alla seconda di x mezzi è sicuramente maggiore o uguale a 0. Allora se il prodotto è negativo certamente non dipende da questa quantità per cui al massimo si richiede che il coseno alla seconda di x mezzi sia diverso da 0 dato che appunto il prodotto non può essere nullo ma solo negativo. Proviamo allora il caso in cui il coseno alla seconda di x mezzi è uguale a 0 e come vi ho detto prima sulla condizione di esistenza che ci sarebbe potuta servire dobbiamo richiedere semplicemente che x sia diverso da pi greco più 2k pi greco al variare di k in z. Se adesso ci concentriamo sul secondo fattore ovvero tangente alla seconda di x mezzi più 2 tangente di x mezzi meno 1 dobbiamo richiedere che sia negativo proprio perché il primo fattore è positivo e il prodotto deve essere negativo. Per poter risolvere questa disequazione innanzitutto adoperiamo una sostituzione poniamo la tangente di x mezzi uguale a t così la nostra disequazione diventa t alla seconda più 2t meno 1 minore di 0. Poi consideriamo l'equazione associata per poter ridurre il trinomio e grazie alla formula risolutiva in realtà utilizziamo la formula del delta quarti otteniamo che la prima soluzione t1 è uguale a meno 1 meno radice di 2 e la seconda soluzione t2 è uguale a meno 1 più radice di 2. Il trinomio che era riducibile si scompone nel prodotto di questi due fattori t meno aperta tonda meno 1 meno radice di 2 chiusa tonda per t meno aperta tonda meno 1 più radice di 2 chiusa tonda. Questo prodotto deve essere negativo e come al solito ci riconduciamo allo studio del segno del prodotto ove per convenzione poniamo il primo fattore maggiore di 0 e il secondo fattore maggiore di 0. Risolte queste disequazioni molto semplici troviamo che il primo fattore positivo per t maggiore di meno 1 meno radice di 2 e il secondo fattore positivo per t maggiore di meno 1 più radice di 2. A questo punto noi ricordiamo che t in realtà nasconde la tangente di x mezzi in quanto prima abbiamo apportato questa sostituzione per facilitare i calcoli. Allora torniamo indietro e al posto di t appunto scriviamo tangente di x mezzi sia per il primo fattore che per il secondo fattore. Abbiamo tangente di x mezzi maggiore di meno 1 meno radice di 2 e tangente di x mezzi maggiore di meno 1 più radice di 2. In un video precedente abbiamo visto come è facile poter studiare entrambe le disequazioni in un unico piano cartesiano dove andiamo a tracciare due circonferenze coniometriche che pur avendo lo stesso raggio vengono in realtà suddivise fra loro per poter lavorare meglio su ciascuna circonferenza. Quindi possiamo immaginare magari di ridimensionare una e di tenere l'altra più grande. Allora concentriamoci sulla prima disequazione tangente di x mezzi maggiore di meno 1 meno radice di 2. Innanzitutto ci chiediamo per quali valori dell'angolo x mezzi la tangente è uguale a meno 1 meno radice di 2 e pur potendo utilizzare l'arco tangente in realtà è stato dimostrato che l'angolo per cui la tangente è uguale a meno 1 meno radice di 2 è proprio uguale a 5 ottavi pi greco che corrispondono a 112 gradi e 30 primi. Per comodità poniamo x mezzi uguale ad x segnato dunque abbiamo che tangente di x segnato è maggiore di meno 1 meno radice di 2 e in particolare è uguale a meno 1 meno radice di 2 per x segnato uguale a 5 ottavi pi greco. Adesso avendo a disposizione l'angolo tracciamo quella retta nel piano cartesiano che forma con il semiasse positivo delle ascisse esattamente un angolo di ampiezza pari a 5 ottavi pi greco in corrispondenza del punto di intersezione fra la retta e la circonferenza arancione che indichiamo con pi 1. La retta incontra la circonferenza arancione in un altro punto che indichiamo pi 2 e in corrispondenza del quale l'angolo che ne deriva è dato dalla somma fra 5 ottavi pi greco e pi greco che corrisponde alla periodicità della funzione tangente. Infatti sappiamo che dopo un angolo piatto ovvero un angolo di ampiezza pari a pi greco radianti la tangente assume gli stessi valori per cui assumerà il valore meno 1 meno radice di 2 sia in corrispondenza dell'angolo 5 ottavi pi greco sia in corrispondenza dell'angolo 13 ottavi pi greco che si ottiene sommando a 5 ottavi pi greco il periodo pi greco della funzione tangente. Dato che la tangente di x segnato deve essere maggiore di meno 1 meno radice di 2 e meno 1 meno radice di 2 è una quantità negativa allora sicuramente prendiamo della prima circonferenza sia i punti che si trovano nel primo quadrante sia i punti che si trovano nel secondo dato che sappiamo che in quei quadranti la tangente è positiva. Per quanto riguarda gli archi di circonferenza che si sono venuti a formare nel secondo e nel quarto ci chiediamo se dobbiamo prendere l'arco di circonferenza che va tra 5 ottavi pi greco e pi greco oppure l'arco di circonferenza che va tra pi greco mezzi e 5 ottavi pi greco. Allora osserviamo che quando l'angolo è prossimo a pi greco mezzi e si trova nel secondo quadrante cioè quando x segnato tende a pi greco mezzi più allora sappiamo che la tangente di quest'angolo decresce fino a tendere a meno infinito. Infatti dal momento che in pi greco mezzi la tangente non esiste vogliamo studiare il suo comportamento in un suo intorno e appunto vediamo che nel secondo quadrante quest'ultima più l'angolo si avvicina a pi greco mezzi più la tangente tende a meno infinito a differenza del primo quadrante per cui la tangente cresce fino a tendere a più infinito in un intorno molto piccolo di pi greco mezzi. Quindi siccome in quell'archetto indicato la tangente decresce fino a tendere a meno infinito ma noi siamo interessati ai valori dell'angolo x segnato per cui la tangente dell'angolo stesso è maggiore di meno 1 meno radice di 2 allora scartiamo quell'archetto e prendiamo l'altro. Quindi prendiamo quell'arco che va da 5 ottavi pi greco a pi greco. Lo evidenziamo di verde e di conseguenza andiamo ad evidenziare dello stesso colore l'arco ad esso opposto rispetto al vertice. Terminato lo studio della prima disequazione ci concentriamo sulla seconda tangente di x mezzi maggiore di meno 1 più radice di 2. Anche in questo caso teniamo presente che x mezzi verrà poi sostituito da x segnato. Innanzitutto studiamo per quale valore dell'angolo x mezzi la tangente è uguale a meno 1 più radice di 2 ed anche qui è stato dimostrato che ciò accade in corrispondenza di pi greco ottavi radianti o equivalentemente 22 gradi e 30 primi. E allora nel nostro piano cartesiano andremo a rappresentare quest'angolo utilizzando una nuova retta quella di colore rosso che appunto forma con il semiasse positivo delle ascisse un angolo di ampiezza pari a pi greco ottavi. Questa retta incontra la circonferenza sia in p3 che in p4 mentre in p3 l'angolo è pari a pi greco ottavi in p4 otterremo l'angolo aggiungendo a pi greco ottavi il periodo della funzione tangente quindi pi greco più pi greco ottavi uguale a 9 ottavi pi greco. Poiché la tangente di x mezzi o equivalentemente la tangente di x segnato deve essere maggiore di meno 1 più radice di 2 e meno 1 più radice di 2 è una quantità certamente positiva allora andiamo a scartare quei punti della circonferenza per cui la tangente è negativa e sono esattamente quei punti che si trovano nel secondo e nel quarto quadrante. Nel primo quadrante ci chiediamo se dobbiamo andare a considerare quell'arco di circonferenza che si viene a formare tra 0 e pi greco ottavi oppure l'arco di circonferenza che invece si viene a formare tra pi greco ottavi e pi greco mezzi. Prima abbiamo detto che quando consideriamo un angolo prossimo a pi greco mezzi nel primo quadrante la tangente cresce fino a tendere a più infinito quindi tra pi greco ottavi e pi greco mezzi la tangente cresce sempre più fino ad un valore indefinito e siccome noi vogliamo che la tangente di x segnato sia maggiore di meno 1 più radice di 2 certamente lo sarà in quest'arco di circonferenza che si trova tra pi greco ottavi e pi greco mezzi e quindi l'andiamo ad evidenziare ed in più sfruttando la periodicità della funzione tangente andiamo a considerare l'arco opposto a quello di partenza rispetto al vertice. Nella lezione precedente abbiamo visto che arrivati a questo punto dobbiamo inserire dei segni all'interno di ciascuna circonferenza in particolar modo se ci concentriamo sulla prima circonferenza quella più piccola sappiamo che in corrispondenza degli archi evidenziati di verde inseriremo il segno più e in corrispondenza di quelli non colorati di verde il segno meno. Lo stesso ragionamento faremo per la circonferenza più grande per cui se siamo nel primo settore che va da 0 a pi greco ottavi per la prima circonferenza al suo interno metteremo più e per la seconda il segno meno. Nel secondo settore che va tra pi greco ottavi e pi greco mezzi entrambi i segni saranno positivi, nel terzo entrambi i segni saranno negativi, nel quarto la prima circonferenza avrà il segno positivo e la seconda circonferenza avrà il segno negativo, nel quinto segno positivo per la prima e segno negativo per la seconda, nel sesto segno positivo per entrambi, nel settimo per entrambi il segno negativo, nell'ottavo per la prima circonferenza il segno positivo e per la seconda circonferenza il segno negativo. Avendo adesso a disposizione i segni per ogni circonferenza andiamo ad applicare la regola dei segni per ciascun settore formato tra la circonferenza e le rette. Nel primo settore metteremo il segno meno, nel secondo il segno più, nel terzo il segno più, nel quarto il segno meno, nel quinto il segno meno, nel sesto il segno più, nel settimo il segno più, nell'ottavo il segno meno. Dato che siamo interessati ai valori dell'angolo x segnato per cui il prodotto dei fattori è negativo, allora dobbiamo andare a cerchiare all'interno del nostro grafico solo i segni meno e scrivere finalmente le soluzioni. Dovendo considerare solo i segni negativi, notiamo che si sono venuti a formare due archi di circonferenza. Il primo è in parte nel quarto quadrante e in parte nel primo quadrante, il secondo in parte nel secondo quadrante e in parte nel terzo. Ma è necessario considerare entrambi gli archi di circonferenza e quindi scrivere due intervalli di soluzione? Oppure si può tener conto del fatto che la funzione tangente è periodica di periodo pari a π? Vale la seconda intuizione. Infatti possiamo tener conto soltanto di quell'arco di circonferenza che si trova nel quarto e nel primo quadrante perché ciò che noi diciamo per quest'arco si andrà a ripetere per l'arco opposto. Dato che non possiamo identificare quest'arco di circonferenza mediante gli angoli 13 ottavi pi greco e pi greco ottavi perché non possiamo scrivere che x segnato è compreso tra 13 ottavi pi greco e pi greco ottavi dato che 13 ottavi pi greco è più grande dell'altro. Allora dobbiamo trovare un modo equivalente di scrivere quest'angolo che si trova nell'ultimo quadrante, esattamente nel quarto, che parte da 13 ottavi pi greco e arriva in 2 pi greco. Per determinare la sua impiezza possiamo sottrarre a 2 pi greco appunto 13 ottavi pi greco e così otteniamo un angolo di ampiezza pari a 3 ottavi pi greco ma all'interno della figura mettiamo il segno meno perché cominciamo a partire da zero per scendere verso il basso quindi procediamo al ritruso e troviamo appunto l'angolo di ampiezza meno 3 ottavi pi greco e adesso avendo meno 3 ottavi pi greco come primo estremo dell'arco di circonferenza che andremo a considerare e avendo anche pi greco ottavi andremo a scrivere che l'angolo x segnato è compreso tra meno 3 ottavi pi greco e pi greco ottavi. Tuttavia x segnato è proprio uguale ad x mezzi quindi procederemo con la sostituzione dicendo che x mezzi è compreso tra meno 3 ottavi pi greco più k pi greco e pi greco ottavi più k pi greco al variare di k in z. In più essendoci il denominatore 2 alla frazione x fratto 2 moltiplichiamo per 2 tutti i membri di questa sequenza di disequazioni per isolare la x. Infine troviamo che x è compreso tra meno 3 quarti pi greco più 2 k pi greco e pi greco quarti più 2 k pi greco al variare di k in z. Vi ricordo che c'era anche la questione sul coseno di x mezzi che doveva essere diverso da 0 per cui x doveva essere diversa da pi greco più 2 k pi greco ma di questo non ci preoccupiamo perché appunto il valore per cui la x deve essere diversa non è compreso all'interno dell'intervallo delle soluzioni.